Ciao, hashtag eleggiamolo, lo abbiamo scritto per le elezioni del 4 marzo a pagina 1 del programma, l'abbiamo sottoscritto tutti noi di centro-destra e siamo ancora convinti che sia la soluzione. La Commissione e il Parlamento in 90 giorni possono prendere la norma costituzionale, modificarla e permettere a tutti noi cittadini italiani di eleggere direttamente il Capo dello Stato. Quindi mi raccomando, chi sta dentro il Parlamento, chi sta fuori il Parlamento, si impegni come ci siamo impegnati noi nei confronti degli elettori italiani, e l'abbiamo scritto ripeto a pagina 1 del programma, vogliamo il semi-presidenzialismo, vogliamo eleggere il nostro Presidente della Repubblica che stia al Quirinale 5 anni, nomini il Governo e si impegni su un programma concordato con noi cittadini. Quindi mi raccomando, anche situazioni difficili come questa, possono essere risolte migliorando definitivamente la caratura nazionale, l'importanza dell'Italia e la considerazione internazionale che noi meritiamo, perché non possiamo permettere che nessuno dall'esterno dei confini nazionali ci dica chi dobbiamo scegliere, che politica dobbiamo fare e dove dobbiamo andare. Siamo noi italiani a decidere il nostro destino, vogliamo esserlo e vogliamo eleggere il nostro Capo dello Stato. Hashtag eleggiamolo! Ciao a tutti!